Primo appuntamento oggi del tavolo tecnico sulla mobilità. L'assessore comunale di Pescara, Berardino Fiorilli, ha incontrato tecnici comunali e forze politiche. L'obiettivo è ascoltare proposte, istanze e suggerimenti che dovranno avere un carattere esclusivamente costruttivo e non di polemica puramente strumentale. Fiorilli ha illustrato cosa ha determinato alcune scelte della mobilità cittadina dallo scorso settembre ad oggi, come la sostituzione del semaforo con una rotatoria all'incrocio tra Via Ale-Regina Margherita e Via Leopoldo-Muzzi, un rondò che ci ha permesso, ha detto, di fluidificare la viabilità e ancora oggi continuano a ringraziarci operatori commerciali e soprattutto residenti della zona. E poi l'inversione dell'ultimo tratto di Via Regina Margherita, ma anche le scelte operate su Via De Amicis, Via Quarto De Mille ed infine in Via Mazzini, dove appena tre giorni fa è stato peraltro ripristinato il senso unico di marcia, mare e monti sull'ultimo tratto, compreso tra Viale Nord e Viale Regina Margherita, dotando l'area di un asseviario alternativo a Via De Amicis. È evidente, spiega Fiorilli, che molte scelte sono state determinate dall'apertura di cantieri strategici, dall'avvio di opere importanti che puntano innanzitutto ad ampliare l'isola pedonale del centro per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la qualità dell'aria, come i lavori di riqualificazione e pedonalizzazione dell'asse Via Firenze e Via Cesare Battisti. La filosofia è quella che punta a disincentivare l'uso del mezzo privato. Il prossimo step è l'incontro con la GTM per valutare problematiche e proposte.